22 sono i decessi finora registrati nelle marche causati da coronavirus. Storie di vita stroncate per le tante vittime di una infezione tuttora in continua evoluzione. Eros Tabanelli aveva 86 anni e morto all'ospedale di Senigallia dove era ricoverato da venerdì scorso per problemi respiratori riconducibili al virus. Faentino di nascita, pesarese per vita, Tabanelli era conosciuto come imprenditore di lunga data, estimatore di solidarietà, a cominciare dalla casa di accoglienza per Senzatetto. Da tempo aveva iniziato a coinvolgere i pesaresi a dedicare del tempo per la struttura, iniziando una campagna di inclusione sociale e proponendosi come volontario notturno. Uno dei progetti che ultimamente gli stava più a cuore riguardava i bambini autistici e i disabili di estrema gravità. Ricci lo ricorda come un soggetto in cui è cresciuta la rete di protezione sociale della città di Pesaro. Nella lista dei decessi si è aggiunto anche Livio Sanchioni, 94enne, vedovo, residente a Cartoceto, poi anche altri tre uomini di 67, 84 e 85 anni, tutti residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. Il primo di questi è Paolo Cantini, il ristoratore di Baia Flaminia, simbolo della vita notturna della città negli anni 80 e 90. Il quadro clinico di Cantini era compromesso, ha dichiarato la sorella, in quanto immunodepresso non ce l'ha fatta reagire al virus. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona positiva, è sempre pronto a organizzare serate di intrattenimento. Alle vittime si aggiunge anche una donna di 83 anni, proveniente dalla provincia di Macerata, poi un uomo di 81 anni, Saverio Pesce, ex agente di commercio ed ex assessore all'urbanistica del comune di Ancona, ricordato da tutti come un uomo di profonda cultura e amante della musica. Saverio da 25 anni si era trasferito a Fano ed era il compagno di Giannina Sanchioni, commerciante molto conosciuta nel fanese, deceduta l'altro ieri al San Salvatore. Giannina era conosciuta a Fano come la signora delle scarpe in quanto gestiva un negozio in via Arco d'Augusto, nota anche nel campo della moda milanese Lascia Tre Figli. Il mondo dello sport pesarese ricorda anche Andrea Rossi, 46enne, grande tifoso della Vista e della VL, rinvenuto ieri mattina dalla madre senza vita. Andrea era affetto da sindrome di Down, aveva febbre da qualche giorno ed era rimasto a casa e stava aspettando l'esito del tampone.